La storia di Sam il cameriere 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 Nella tua esperienza di giocatore Non ti è mai capiato di trovare Dei giocatori professionisti dei Bari? Una volta c'era un tipo Non tanto alto, bassetto Un certo Danilo che aveva 3-7 E 2-8 e ha vinto lui con un full? No, ha vinto un altro tipo che aveva 3 assi e 2-9 Un full di 9? No, ha vinto Marco Aimone, il mago, che aveva una scala Reale di pic E questa è la storia di Sam il cameriere E del club 6-5-6 E del club 6-3